Chi è? Chi è? Che volete? Polizie. Ci sono reclami su certi farabutti che vanno in giro fingendo di essere ciechi e storpi. Io vi aiuterei volentieri, ma ho perso la vista quando ho messo il piede su una mina in Vietnam nel 72. È stata un'esperienza terribile. Sei stato in Vietnam? Anche noi. Dove? Io stavo a San Ben, Din Do, Don Din. Sono stato un po' dappertutto, un sacco di posti, un sacco di posti, un sacco di posti. Io ci vedo. Io ci vedo. Io ho anche le gambe. Io, oddio, guardate, ho le gambe. Riesco a camminare, Gesù. Piracolo, Gesù. Grazie, grazie, che bello. Non ci posso credere, grazie. Non ci posso credere, non ci posso credere, io. Io, porco. Sia lodato Gesù Cristo e sempre sia lodato.